Abbiamo iniziato, eravamo in un girone difficile con Reggio Emilia, con Biella e con Livorno. Tre squadre comunque forti, noi siamo riusciti a vincere tutte e tre giocando di squadra. Nessuno di noi ha mai vinto una partita da solo e questa cosa è molto importante. Ci siamo aiutati a vicenda, ognuno ha fatto la sua parte, quindi siamo arrivati qua. Allora, ieri è stata una partita bella difficile contro Siena e oggi ha maggior ragione contro Ferrara, una squadra che comunque aveva dei grandi giocatori, anche non in nazionale, ma che avevano un cuore enorme, grandi mani. Abbiamo fatto fatica anche oggi e di nuovo di squadra siamo riusciti a superarla, quindi siamo molto felici e continuiamo così. Sì, assolutamente, è una squadra che comunque punta a far girare la palla, nessuno è fondamentale, sono tutti quanti buoni giocatori che riescono a far canestro in qualsiasi situazione. L'obiettivo principale, come ho detto prima, muovere la palla è appoggiarci a uomini liberi che comunque riescano a segnare da fuori o trovare soluzioni interne.